Con l'assessore regionale Marco Scaiola nella sala stampa del Festival 2016, 66esima edizione, come possiamo vedere la Regione è protagonista anche al Festival? Finalmente dopo tanti anni la Regione è protagonista al Festival di Sanremo, grazie all'intuizione del Presidente Giovanni Totti la Regione Liguria è protagonista, questa sera il Presidente Totti salirà sul palco dell'Ariston per premiare il vincitore della serata delle nuove proposte, quindi anche un momento importante per il nostro territorio, ogni sera durante il Festival c'è uno spot di promozione della Liguria, uno spot giovane, bello, fresco, dinamico che permetterà di sfruttare come giusto che sia ed è incredibile che non sia stato fatto fino ad oggi il Festival di Sanremo, questo spettacolo musicale bellissimo, il più bello del mondo, per poter far vedere in tutta Europa, in tutta Italia, oltre i nostri confini, quanto sia bella la Liguria, quanto sia importante la Liguria e quanto si stia lavorando per fare in modo che la Liguria sia veramente un gran territorio. Grazie mille! A voi! Grazie mille!